E' stato dei loro liti, i loro digiuni e le loro benitezze pubbliche. E' entrato nelle sinagoche per combattere le istituzioni. Ha ammiracciato la pace dei popoli. Basta! Ho già sentito parlare di lui. Guardate chi ci abbiamo davanti. Gli hanno detto che fai dei rai. Come potuto clarire? Ammalati, ciechi, stordi, addirittura sposi. E' vero che resuscita da te dei morti? Non rispondi? La notizia ti morde la lingua. Vediamo di cima qualche milagro, lo vediamo. Mi hanno detto che hai convertito l'acqua in vino. Dai, cambia quest'acqua in qualcosa da vorreta bene. E dai, cambiala! E' sicuro che non l'avete, se ti lanca! Lo stupio è passato! Rialato non l'abbiamo arato! Non l'abbiamo arato! Che è riappone! Che è riappone! No! Che è riappone!